Alla vigilia di Ferragosto il borgo di Fiorenzuola di Focara vede sorprendentemente ridimensionato l'impatto della sua antenna della discordia. Da ieri infatti la torre di telefonia Iliad che da un anno e mezzo è fortemente osteggiata da residenti e comunità del Parco San Bartolo per l'effetto pugno in un occhio su paesaggio da cartolina è stata spogliata di cilindro e copertura che l'avevano ribattezzata Cotonfioc. L'antenna rimane dov'è ma con un effetto ottico meno invasivo. Alla base della torre di telefonia collocata a pochi metri dal cimitero di Fiorenzuola campeggia un cartello con la scritta in pennarello sito in manutenzione firmato da Sirti che è la società leader nella gestione degli impianti di telecomunicazione. Ad oggi non si conoscono le ragioni specifiche di questa rimodulazione che il quartiere San Bartolo definisce intanto un primo passo sulla soluzione di questa situazione per la quale si continua a chiedere la totale rimozione dell'antenna di telefonia da questo luogo. Una rimozione per la quale dalla primavera 2023 si scatenò una mobilitazione fra cori di dissenso e raccolte firme oltre al via ad un processo che ha portato poi al rinnovamento del regolamento sull'installazione delle antenne sul territorio comunale. Una battaglia che quartiere e comunità del Parco vogliono continuare non accontentandosi del compromesso attuato in questo mese d'agosto.